I bollettini allegati agli avvisi per il pagamento della Tari, che in questi giorni il comune di Teramo sta recapitando a casa dei cittadini, sono errati negli importi. Uno scostamento di circa 10 euro che potrebbe indurre in errore soprattutto le persone anziane e chiunque non faccia caso alla differenza, magari delegando altri per il pagamento senza consegnare l'avviso. La denuncia arriva dal consigliere comunale Gianluca Pomante. Sono sbagliati gli importi degli F24 allegati agli avvisi in alcuni casi, quindi senza voler fare allarmismo, però vorremmo che i cittadini fossero informati di questa circostanza e che controllassero che gli F24 recano gli stessi importi rispetto all'avviso. Ci hanno poi segnalato proprio questa mattina un'altra incongruenza. Facendo la somma delle tre rate, quella pagata a giugno e le altre due da pagare, pare che ci siano ulteriori aumenti di 1-2 euro, quindi controllate anche rispetto a quello che avete già pagato se il totale corrisponde a quello che dovete ancora pagare. Sull'avviso c'è sia l'importo complessivamente dovuto sia l'importo delle due rate ancora da pagare. Se gli F24 non coincidono, non corrispondono, conviene farsene dare alcuni bianchi dalla banca, ricompilarli e fare il versamento corretto. Grazie.